Questa settimana su ANN, Adra Italia ringrazia per le donazioni ricevute in favore delle famiglie colpite dal sisma. Di fronte alla violenza scatenata in uno stato del Brasile, i giovani avventisti offrono preghiere e parole di conforto ai residenti e alle genti di pulizia. E una radioavventista australiana in funzione da 9 anni ha aperto il suo primo studio. Questo è altro ancora, a fra poco. Benvenuti su ANN, un servizio della Chiesa Cristiana Ventista Mondiale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per aver scelto di seguirci anche questa settimana. A sei mesi dalle prime gravi scosse di terremoto in centro Italia, Adra ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni. Da settembre 2016 a gennaio 2017, l'Agenzia Umanitaria Ventista ha ricevuto circa 60.000 euro. Tanti sono gli interventi realizzati per la popolazione colpita. A Rieti, l'impegno dei volontari ha permesso di dare ospitalità a diverse persone nella Chiesa Ventista e di attivare la mensa per un mese ad agosto e per altre due settimane ad ottobre, dopo il secondo evento. È stato anche allestito un magazzino di smistamento di beni di prima necessità, coordinato con la Protezione Civile e altre organizzazioni locali. I volontari hanno poi distribuito generi alimentari, detersivi, prodotti per l'igiene, biancheria intima ed altro, ad Amatrice, Norcia, Cascia, Campi di Norcia, Saletta, Sky e tante altre frazioni. I coordinamenti di Adra Iesi e Adra Perugia hanno consegnato beni di prima necessità nei campi di accoglienza allestiti dopo il primo sisma, nelle zone di Perugia e Porto Recanati. Il nostro obiettivo principale, ha detto Elisa Gravante di Adra Italia, è quello di restare costantemente vicino alle famiglie, di rispondere ai loro bisogni, di agire dove le istituzioni non possono arrivare. Circa 50 famiglie hanno ricevuto elettrodomestici per gli alloggi temporani, stufe e pellet, alimenti per il bestiame, attrezzature di lavoro, vestiario per l'inverno, pezzi di riparazione per automobili. Ci spostiamo ora in Brasile, dove centinaia di poliziotti scioperano in uno stato nel sud-est del Brasile e la criminalità si scatena con violenza e saccheggi. 143 i morti nei primi 10 giorni di protesta. La polizia militare ha incrociato le braccia per chiedere un aumento dei salari a causa della grave crisi economica. Per la legge la polizia non può scioperare e oltre 1.400 ufficiali sono stati rinviati a giudizio. Le gang hanno approfittato di questo vuoto per scatenare la violenza con omicidi e razzie. Scuole, chiese, uffici e negozi sono rimasti chiusi e la gente si è barricata in casa. I giovani avventisti hanno cercato di portare la pace andando per le strade e chiedendo ai residenti di pregare con loro. In una città, un gruppo di giovani si è riunito davanti a una stazione di polizia per cantare, pregare e chiedere l'intervento di Dio. 11 chiese avventiste sono rimaste chiuse, ma i membri si sono riuniti nelle case o hanno condiviso i sermoni online. Un pastore ha detto, possiamo imparare da ogni situazione. In questo momento di crisi abbiamo visto quanto sia importante essere in comunione con Dio e con gli altri. Una radio che da nove anni trasmetteva dalla sede della chiesa avventista in Australia ha finalmente uno studio tutto suo. Il cambiamento è stato possibile grazie alle preghiere e all'intervento di AWR e della regione pacifico del sud della denominazione. L'emittente ha iniziato le trasmissioni nel 2008 su vari contenuti cristiani per gli australiani, secondo la loro mentalità. Il direttore della radio ha detto, lo studio è una base di supporto per incoraggiare e rafforzare i membri della chiesa, i dirigenti, i pastori e gli operatori sanitari in tutto il paese. Il nostro unico desiderio è quello di ispirare la gente per creare contenuti che tocchino i cuori degli australiani e li avvicinano a Cristo. Nonostante il conflitto armato in Ucraina, i cortei e le proteste nazionali in Romania, gli eventi evangelistici organizzati nell'Europa dell'Est sono seguiti da grandi foli di persone. Oltre 4.300 luoghi di incontro in otto paesi hanno accolto i visitatori che vogliono saperne di più su Gesù. 500 eventi si sono conclusi in Ucraina questa settimana, mentre 1.300 hanno iniziato la seconda settimana di incontri in Romania. La maggior parte delle iniziative evangelistiche sono condotte da membri laici. Gli incontri si svolgono anche in centinaia di città di Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Moldavia e Russia. I dirigenti della Chiesa sperano che questo modello di testimonianza si diffonda in tutta Europa. Continueremo a dare aggiornamenti nelle prossime settimane. I dirigenti di un ministero avventista indipendente hanno aperto una scuola in un villaggio sperduto della Papa Nuova Guinea, dove i bambini in età scolare non hanno accesso diretto all'istruzione. Il villaggio si può raggiungere solo in elicottero o con un fuoristrada, e per i bambini delle 6.000 famiglie residenti è difficile andare in un altro paesino o in città per frequentare la scuola. Ora l'Istituto Nuovo di Zecca, con i due insegnanti avventisti, offre lezioni gratuite a 120 alunni. Durante l'anno saranno costruite altre due aule e una sala di primo soccorso. Ora una breve pausa. Ci rivediamo tra poco. Grazie a tutti. Bentornati. Riprendiamo il nostro giornale con nuove informazioni dalla Chiesa Globale Italiana. Secondo le Nazioni Unite, l'Africa subsahariana ha la più alta incidenza di fame nel mondo. Una persona su tre è malnutrita o denutrita. Per aiutare ad affrontare la crisi alimentare della regione, la Chiesa Ventista della Tanzania ha programmato un corso che insegna alle donne come coltivare e mantenere un orto. La formazione, realizzata in collaborazione con Adra Africa, offre alle donne le competenze essenziali per diventare autosufficienti e sradicare la povertà nella loro comunità rurale. Gli organizzatori, infatti, sono convinti che le partecipanti al corso sono pronte a condividere e implementare, nei rispettivi territori, le competenze acquisite. Una iniziativa simile si terrà a maggio in Kenya. Quest'anno i dirigenti avventisti del Messico Centrale si sono proposti di portare 5.000 nuovi giovani nella Chiesa e incoraggiano i membri a incontrarli nel loro luogo preferito, i social media. L'11 febbraio, nella Chiesa Ventista di Città del Messico, è stato organizzato il programma Collegati nella Fede, trasmesso in diretta su Facebook. Più di mille giovani sono stati invitati a utilizzare i loro smartphone durante il programma per inviare video, immagini e messaggi audio a 5 dei loro amici non avventisti. Hanno condiviso una serie di studi biblici online, realizzati dall'evangelista Alejandro Buon e prodotta dalla TV della regione sudamericana della Chiesa. I presenti si sono impegnati a dedicare 4 minuti al giorno, 2 la mattina e 2 la sera, per condividere i contenuti del corso biblico. I giovani sono anche incoraggiati a seguire e a pregare per chi esprime interesse. Il programma ha registrato 15.000 condivisioni e raggiunto oltre 140.000 persone su Facebook. La Casa di Riposo Casa Mia di Forlì ha ospitato un incontro dei responsabili delle istituzioni sanitarie e eventiste europee. L'evento si è svolto dal 26 al 29 gennaio per studiare e approfondire principi biblici e linea guida riguardanti la gestione di tali strutture, oltre alla condivisione di testimonianze e messaggi spirituali. Erano rappresentate 10 istituzioni di Norvegia, Svizzera, Spagna, Germania, Ucraina, Romania, Moldavia e Portogallo. L'obiettivo di questi incontri è sviluppare una rete di supporto alle istituzioni che cooperano nel campo socio-sanitario, in conformità con il messaggio sulla salute predicato dalla Chiesa Ventista. Inoltre si vuole condividere l'amore di Dio seguendo l'esempio del Ministero di Gesù, per la guarigione e il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale di ogni persona. Applausi e commozione hanno accolto la prima del recital Cantico dei Cantici domenica scorsa. 500 spettatori hanno gremito la Chiesa Ventista di Firenze e perseguire quest'opera fresca e giovane, in cui parole e musica rendono il testo biblico vivo ed attuale. Il recital ha impegnato 50 persone di tutte le età che hanno collaborato insieme per onorare la bellezza di un libro biblico così particolare. Le musiche originali, composte dal giovane Gabriele Nardoni, per orchestra e coro, accompagnano le letture delle tre voci narranti. In occasione del quinto centenario della riforma protestante, la Chiesa Fiorentina ha voluto regalare al pubblico quest'opera che è stata molto apprezzata. Trasmesso in diretta streaming la sera della prima, è ora possibile rivedere il recital su Hop Channel Italia. A Torino, gli scout dell'AISA hanno raccolto medicinali da donare a persone e famiglie indigenti. Con l'aumento della povertà, cresce anche la richiesta di farmaci da parte delle associazioni e degli enti convenzionati con il Banco Farmaceutico. A questa iniziativa aderiscono volontari e farmacie ogni anno, a livello nazionale, e il gruppo scout AISA della Chiesa Ventista Torinese non si è tirato indietro. Sabato 11 febbraio, otto animatori AISA erano davanti a quattro farmacie della città. Hanno distribuito volantini per richiamare l'attenzione dei clienti e hanno indicato alcuni farmaci per una donazione più precisa e senza sprechi. Questa era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Ventista Mondiale e da quella italiana. Nel frattempo seguiteci anche su Facebook e Twitter. Prima di lasciarci, vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel Libro di Romani, capitolo 8, versetti 26 e 27. Il testo dice Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene ma lo Spirito intercede gli stessi per noi con sospiri ineffabili e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito perché gli intercede per i Santi secondo il volere di Dio. Ora è proprio tutto e ricordate che ci trovate su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica.